Ciao a tutti amici dextimardora.com e ben ritornato ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione l'M65 Pro RGB, ultima versione del noto M65 di Corsair, dotato ovviamente della redominazione RGB, nonché dell'inconfondibile e immancabile tasto sniper e di un nuovo sensore ottico, un PixArt PMW3360, che come abbiamo visto nelle precedenti recensioni di altri mouse, si è rivelato essere un gran sensore. Partendo velocemente dalla confezione troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, il modello dello stesso, alcuni loghi che ci ricordano le caratteristiche principali nella parte frontale, mentre nel retro troviamo ulteriori immagini, caratteristiche e lati ulteriori specifiche circa il mouse. Tramite un'apertura al libro troveremo il mouse riposto in ulteriore packaging e a sinistra troviamo immagini illustrative e altre caratteristiche. All'interno della confezione troveremo semplicemente un libretto circa la garanzia e una kickstart guide che ovviamente non utilizzeremo mai. Infine è presente il mouse Corsair M65 Pro RGB. Come notiamo il design è rimasto invariato dai precedenti modelli, segno che Corsair ha scelto un design vincente. Le dimensioni come sempre sono molto compatte, ideali per videogiocatori con una presa a club grip oppure fingertip. Ovviamente la palm grip è altamente sconsigliata viste anche le dimensioni e il design del mouse stesso. Inconfortibile è anche la forma AY che tramite questa sorta di biforcazione migliorerà sicuramente il grip e il comfort sul mouse stesso. Partendo dalla zona superiore troviamo nel dorso l'immancabile logo della Corsair, ovviamente l'ultimo e il nuovo logo della Corsair. La superficie è una superficie soft touch che migliorerà sia la presa sia dovrebbe evitare un'eccessiva sudorazione. Nella parte più avanzata troviamo tre tasti, due principali per lo switch di DPI e uno centrale che potrà essere personalizzato. In totale sono comunque presenti otto tasti che potranno essere personalizzati sempre tramite il software di gestione della Corsair. Dotato dell'immancabile rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma per migliorare lo scroll delle pagine web o eventualmente delle armi in gioco. Dotato di switch home run, buon feedback per ambo i tasti. Nella superficie del tasto di sinistra troviamo anche la serigrafia Corsair. Ci spostiamo ora nel lato di sinistra dove troviamo una scanalatura che ci permetterà di poggiare il pollice e quindi utilizzare perfettamente il tasto sniper che è un tasto dedicato ai videogiocatori di FPS e ci permetterà di selezionare una risoluzione DPI inferiore e quindi permettere una maggiore mira e precisione durante la stessa. Sono presenti anche due tasti laterali con un buon feedback. Spostandoci nel lato di destra troviamo una sorta di scanalatura. Ambo i lati sono datati di una superficie rogosa che quindi completeranno la presa sul mouse stesso e il grip stesso. Spostandoci nella parte inferiore possiamo osservare la struttura in alluminio, altra caratteristica imprescindibile della serie M65 di Corsair sin dal primo modello e queste tre piccole viti che una volta svitate troveremo all'interno tre zavorre, tre pesetti che potranno esserci d'aiuto per customizzare leggermente il peso complessivo del mouse. Mousefit per una maggiore scorrevolezza su ogni tipologia di mousepad e nella parte centrale troviamo il sensore ottico che come abbiamo già detto è un PixArt PMW3360. DPI massimi disponibili 12.000. Ovviamente non potremo mai sfruttare o non saremo mai in grado di sfruttare 12.000 DPI in gioco ma sono comunque disponibili per i più temerari. Spostandoci nel lato frontale possiamo osservare meglio il design inconfondibile dei modelli M65 e nient'altro. Come dicevamo è dotato di una retrominazione RGB quindi sempre tramite software di gestione potremo personalizzare la retrominazione relativa al logo della Corsair, alla rotellina e a questo tasto centrale. Il cavo è come sempre rivestito in treccia di tessuto e il connettore USB non è placato oro. Con questo è tutto e vogliamo soltanto ricordarvi che insieme al mouse abbiamo ricevuto anche l'ultimo mousepad della Corsair, l'M800 Polaris con retrominazione RGB. Sono presenti 15 zone a LED per effettuare o creare effetti di illuminazione diversi e questo lo vedremo meglio nella recensione scritta sul nostro sito insieme al mouse stesso. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutti lo staff. Grazie a tutti.